Ma la la a tutti! Ciao ragazzi, io sono Gaia e io sono Samantha E oggi giochiamo a Frutti Frutti, che è un gioco bellissimo E che per i 5 anni su E praticamente ci sono 25 carte Noi le abbiamo già divise Aspetta, oh Dio Ho un frullatore, che se io faccio nulla Fermati E le 25 carte Si distribuiscono E una e mezzo Tutte le carte, tranne una Che è questa Che va al centro, qui dentro E che va qui dentro Praticamente Mela O mora, lampone Non so cos'è, non riesco mai a riconoscere Tutti i frutti viola Ok Mettila però dentro La prossima è Mela e Non so Lampone E praticamente Devi trovare una coppia identica Se tu hai mela O la mela Mela Arancia Devi trovare o un'arancia o una mela Io ho detto mela mela E così si continua Però devi dirlo Forte Devi dirlo ad alta voce Così gli altri capiscono cosa hai in mente Di mettere Ok Iniziamo Tre Io sto già impaurendo Perché ho paura Che mi salto E poi dopo faremo Un altro È una sorpresa però Un altro gioco Un altro challenge Aiuto Io ho paura Ho molto paura Non è quello che sto facendo No Non è la mano Quella là Ok dai Iniziamo Allora Aspetta Comunque Vi ricordiamo di iscrivervi e lanciare un mi piace Ok E scrivere nei commenti Chi è stata la più brava Secondo voi Secondo voi Ok Allora Ora si fa a sasso carta fordice Per chi Ok dai Inizia Sasso No Così è morra cinese Morra cinese Morra cinese Sì Sì Mi fa inizia a lei Allora Così 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 Vai Mela arancia Mela arancia 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 è banana Arancia banana Arancia lampone Arancia arancia Lampone 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 pragola Dai Lampone No Lampone mela Non ho mela 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 La mia Mela banana 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 Bacola mela Bacola Bacola Ok Ho vinto io No Sì Perché ho finito le carte E quindi siamo Una zero Per me Facciamo tre Tre Per cui tre Perché non abbiamo tanto tempo a disposizione Perché poi Facciamo due video Ogni 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 Quando ci ritroviamo Abbiamo questo pensiero Di fare un video Sempre 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 Perché Siamo voi Poi siamo voi Oh scusate Magari Più avanti Quando saremo Un canale un po' Più numeroso Potremmo fare un team Tipo dati dei soprannomi Team 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 Trote No Non scrivetelo nei commenti Team Trote Perché non possiamo rubare Quello di Me Contro Perché è fantastico Io adoro Adoriamo I Me Contro Te Dammi Le carte Adoriamo E non possiamo copiare Sono i nostri Seguite I Me Contro Te Yolanda Suiz Suiz Erika Kaui Erika Kaui Fimo Kawaii Emotion E Vabbè Tutti Tutti Youtuber Seguite Va Sì Come si chiama Mike Shosha Tutti Quanti Amano Mike Shosha Tutti Quanti Amano Mike Shosha Noi Visto Che Siamo Settis Iscritti Noi Abbiamo Sette Iscritti Quindi Velocizzatevi Su Su A Venti Iscritti Magari Faremo Una Speciale Di Venti Iscritti Certi Valti Potremmo No No Magari Quando Arriviamo A Quindici Iscritti Facciamo Uno Speciale Uno Speciale Tipo Undrome My Life O Una Cosa Del Genere Pichiamo Parte Sì Ovviamente Oggi Siamo A casa Di Gaia Ok Iniziamo Dai Io adesso Do le carte Come avete visto E poi Allora Se magari Questo è uno Slam di Gaia Cioè Mio Me Le l'ha regalato E ci ha messo Un po' di crema Molto bello Magari Potremmo Fare Un DGS Error O Magari Farvi vedere Come si fa Uno slime Sì Tipo Crunchy Jiggly Beh Jiggly Dove Stare L'acqua Vabbè A me Mi 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 Io Crunchy Crunchy No Cransy E Glossy Io Glossy E Fluffy Nero Jiggly Sì Ma Non mi 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 Ora Iniziamo Con Lampola Lampone No Lampone Arancio Vabbè Questo Cosa E Arancia Lampone No Lampone non è quello è mora o un'altra cosa mora vabbè facciamo mora vai ok inizia sasso carta fornice ok inizia io prima inizia su lei c'è vai dai raga allora inizia via il canale mi raccomando è un mi piace subscribe non mi ricordo cosa era o cosa era è un po' un'arancia arancia fragola 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 mora fragola arana fragola banana banana arancia arancia mora aiuto mara arancia 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 mela 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 fragola mela lampone mela arancia fragola lampone eh lampone lampone fragola mela ho vinto raga ho vinto 2-0 yeee ma intanto è già finita per me quindi non posso rinforzare vabbè dai ragazzi non sono brava dai adesso però non sfidatemi alla Wii che vinco beh sì infatti io perdo sempre la Wii però vabbè sono dettagli noi adesso a parte l'altro video che faremo dopo adesso facciamo un musical.ly e lo postiamo e scrivete nei commenti ovviamente dite se magari faremo un un profilo musical.ly insieme Gaia Visi Sammy così possiamo farlo insieme o il suo o il mio vedrete che avremo tanti fun perché io so come fare vabbè dopo quando arriviamo 15 iscritti vi dirò come si fa avere tanti fun su musical.ly io lo so già però è un segreto shh te lo capisco io se no non lo sapete shh mi raccomando allora seguiteci su musical.ly lei Gaia no Coccodrilli io Coccodrilli dovete trovare un profilo con un animale che non so il nome spec dovete trovare credo che sia un spec però non lo so è spec il cartone beh dovete trovare attaccato e sul mio casimi special tutto attaccato ho 47 fan e lei 236 no io 346 sì ma lei lei bana scherzo ne hai 180 non è vero ne hai 300 qualcosa ah non è vero Samantha la Michela ne ha 340 cosa dici ah scusa mi confondo io ne ho 100 no non lo so vabbè non è sempre se non siamo aumentati o diminuiti o diminuiti cioè io prima io credo che sono diminuiti beh io sono da una due settimane tre settimane che ce l'hai cioè mi sembra 25 fan non hai detto 100 sì però va bene ragazzi vi lasciamo non sono molto brava ai musicali neanche io però ne proviamo lo stesso ok ragazzi vi lasciamo andare non facciamo la seconda partita perché sarebbe inutile vi faremo la terza la terza partita perché tanto ha vinto lei e per non farci per non farvi perdere tempo magari dovete andare via ok iscrivetevi accendete la campanella accendete accendete la campanella attivate la campanella lasciate un commento e condiviete ragazzi ciao 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 no dai balalò a tutti ciao ciao